Cosa compro io per vallare a mio figlio? Non ho soldi! Avete tolto un lavoro! Avete tolto un lavoro! Sono del cittadino che sono a casa! Non lavoro un bambino di tre anni! Cosa le compro da mangiare? Le bollette arrivano a casa con la casa di grazia di bambino! Siamo di distrutto! Senza dignità! È così che si va a finire! Siamo scappazzati di fame! Non abbiamo usato i soldi per pagare anche le mangiare!